Greta Rossetti e le impreviste scenate di gelosia di Sergio Dottavi E adesso dedichiamo questo articolo che riguarda la bella Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello, che in questi giorni è alle prese con un brufolo che le ha dato qualche problema, ma che insomma sembra si sia risolvendo. Ma com'è stata l'esperienza del Grande Fratello? Come vanno le cose con Sergio Dottavi? Tutte domande a cui ha risposto, rispondendo alle domande di un box domande. Nel particolare ha svelato che Sergio non solo è molto geloso ma gli fa anche le scenate di gelosia. Sinceramente ci sono rimasta invece è proprio così infatti a domanda diretta se Sergio Dottavi fosse geloso o meglio di raccontare una scenata di gelosia Greta ha risposto. Ah 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 sono troppe per raccontarvele. Facendo capire chiaramente che le cose fra di loro vanno bene, poi in un altro box parlando indirettamente di Sergio ha messo un bel cuore che fa capire chiaramente che le cose fra di loro vanno molto bene. La domanda più piccante che le hanno fatto è stata quella comunque di risapere se rifarebbe il Grande Fratello, Greta Rossetti ha risposto che. Non è stato un percorso facile però mi ha aiutato in parte a diventare la donna che sono. Ora mi rendo conto che affronto tutto in maniera più matura e costruttiva e soprattutto non vivo la mia vita privata solo. Con il social come magari. Avevo sbagliato in passato a fare. Mi è servito per farmi. Conoscere da voi a 360 gradi e tante persone purtroppo o per fortuna avevano una. Percezione di me molto. Diversa non conoscendomi e basandosi solo sull'aspetto esteriore. Quindi assolutamente sì. Grazie a tutti.